teo sterbini per forzasaggio.it giudizio su questo 1 a 1 con la regnanese oggi devo dire la verità partita ai limiti dell'inguardabile la regnanese non gli farebbe il vero ma oggi non è stata una 10 milioni di partita io non ho contestato nessuno ma anche oggi si sbagliano i cambi a una caviglia confia matteo quindi magari non poteva non poteva si vede non aveva fatto per essere a livello numerico per raggiungere il numero non lo so. Io i rigori non li ho visto quindi ero un po' lontano eh non posso studiare se non c'era oggi però devo dire che io devo dare il milione in campagross eh cavolo ci ha salvato cavolo è tutto eh cinque partite che sta facendo dei dei partiti soldi e mi hanno dato un dato al fine del primo tempo si eloquente aggacciante si queste partite 9 9 9 partite 7 ricordi conto si si è vero è vero infatti io ho detto pubblicamente basta basta noi non ci siamo mai da messo ascolta matteo passiamo secondo alla futsal che mi dici che che io e anche anche ieri o meglio sabato perché la intervista va mercoledì quindi sabato ieri